Corsio? Legale? Hanno scoperto l'acqua calda, mentre da tempo ci sapeva già la politica finanziata dai grandi potenti, non soltanto del Guadar, anche dalla Tunisia e dai stati uniti d'America. Ogni multinazionale ha un interesse per stipulare gli accordi come quello, come il Canada. Accetta, non accettare, OGM, prodotti, dal Brasile, tangenti, premi, sacchi di denaro, valise, tieni, e conti corretti. Interessi, tutti i virus fanno guadagnare e vaccini non ne parlare. Delle armi che devono ancora produrre per continuare l'infame guerra. Ovunque i fabbricanti pagano la politica sponsorizzata. Anche nel piccolo comune c'è sempre interessi. Abbiamo scoperto l'acqua calda, senza fuoco, è una vergogna, non soltanto italiana, greca, francesi, germanica. Non è soltanto Europa. È globale. È globale. È globale. È globale. È globale. È globale.